E' ancora allerta valanghe sulle Alpi dopo la morte stamattina di un quindicenne Riccardo Capitanio a Clavier in Piemonte nella zona del Colletto Verde, 2500 metri di altezza al confine fra Italia e Francia. Nonostante gli avvisi della protezione civile e le valanghe dei giorni scorsi lo studente torinese, una delle più giovani vittime sulla neve degli ultimi anni, stava sciando fuori pista. Con lui c'era un adulto che ha chiamato i soccorsi per accertare eventuali responsabilità è stato interrogato dalla polizia, denunciato per valanga e omicidio colposo. Clavier entra nel fascicolo del PM di Torino Raffaele Guariniello che nelle scorse settimane aveva già disposto controlli sulla sicurezza degli impianti da sci della provincia e aveva aperto un'inchiesta per la morte sotto la neve a Bardonecchia il giorno di Santo Stefano di un altro sciatore francese. L'allerta lanciato dalla protezione civile non riguarda solo il Piemonte ma tutto l'arco alpino. Fra Italia, Francia e Svizzera sono nove le vittime in soli quattro giorni. Nelle immagini la slavina che ieri a St. Moritz ha travolto due sciatori, uno ha perso la vita, l'altro è ferito. E ancora ieri in Val d'Aosta nella conca di Pila due escursionisti liguri sono rimasti travolti da una slavina e a Chamois ancora un giorno prima aveva perso la vita un altro sciatore. La maggior parte degli incidenti ha un elemento che le accomuna, le vittime sciavano fuori pista. In questi giorni il rischio era su base 4, quindi vuol dire molto accentuato. Chiaramente non aver tenuto conto di questa scala significa ecco aver sottovalutato la situazione. Due di quelli ritrovati non avevano strumento che si chiama Artva, che è un apparecchio proprio per la ricerca dei travolti della valanga, che consentirebbe nel caso uno venisse travolto di venire rintrazzato un momentino prima. Sulla neve le valanghe non sono l'unico pericolo, il bollettino degli incidenti, anche gravi e quotidiano. Oggi a cadere è toccato a Michael Schumacher, a Mary Bell in Francia, dove sciava con il figlio di 14 anni. Il campione di Formula 1 ha battuto la testa e ha riportato un lieve trauma cranico.